Omaggio della collezione Poscio di Domodossola e della Galleria Milanese Maspes a Carlo Fornara, 50 anni dalla morte. Il maestro Vigezzino è scomparso il 15 settembre 1968. Da allora, nel suo studio, nella casa di Prestinone a Craveggia, nulla è stato toccato. Martedì 11 settembre, nello spazio Meneghino di Via Manzoni, l'inaugurazione di una mostra con una selezione di 10 autoritratti di Fornara, dai 20 ai 90 anni. L'esposizione, allestita fino al 29 settembre, è curata da Annie Paul Quinsac e rappresenta il primo evento di un anno dedicato all'affermato protagonista dell'avventura divisionista italiana. Dopo le giornate milanesi, gli autoritratti arriveranno a casa De Rodis a Domodossola e saranno visibili al pubblico per un mese durante le festività natalizie, dall'8 dicembre al 6 gennaio. I 10 autoritratti proposti, ne sono noti solo 13, appartengono per la quasi totalità alla collezione Pocho, famiglia legata da profonde amicizie al maestro Vigezzino e ricoprono emblematicamente l'intero arco di una vita. L'anno dedicato al ricordo dell'artista, che conterà diversi eventi, si chiuderà con un'ampia esposizione, sempre curata da Quinsac, a casa De Rodis dal 26 maggio al 26 ottobre 2019. Ricordiamo che il suggestivo spazio che si affaccia su piazza Mercato a Domodossola, voluto dalla famiglia Pocho, ospita fino al 27 ottobre la mostra Teodor Stravinsky, la trasfigurazione poetica, e che dal 22 settembre al 14 ottobre, ai quadri dell'artista russo, saranno affiancati i bozzetti da lui realizzati per le cappelle della via Crucis di Madonna del Sasso di Boleto. Opere che arriveranno dopo una prima a Casale Cortecerro e che nascono come controcanto alla grande pittura morale del Gessemani Casalese.